Come è arrivato in Coppa Italia? Per il momento sono soddisfatta perché c'erano tutti i giovani, mancano quattro titolari, abbiamo tenuto a testa, abbiamo fatto diversi retti e pensiamo anche peggio. Alla fine abbiamo tenuto dura e questo è l'importante, speriamo domani. Alla fine noi contiamo per i play-out di avere la squadra completa, ma è la Coppa Italia, non siamo venute per vincerla, ma per fare una bella figura e far giocare nel giorno.